plastica herald contro yuku salve signorina anche lei ha un mazzo con robe rosse di qua di là finalmente gioco per primo distruggi tutte le creature con volare di mana o inferiore a 2 ok con volare di mana ok però purtroppo non posso usarla così sì se non mi sbaglio sì ah no le tartarughe ninja no no quella non la sapevo tappa due creature stappate contro le carro fune diventa una creatura che è fatto fino alla fine del turno mettiamo questa che ci sta molto molto bene mo me l'ammazza tac tac proprio dai bel bambino metti giù una creatura che se mi venisse in mano una palude gliel'ammazzo anch'io a no gliel'ammazzo subito così proprio tec chi di dardo della fiamma perisce di dardo della fiamma ferisce perisce quel cazzo eccala la sto pezzo del fango mi sa che questa è un'altra sconfitta mi sa tanto che ah beh tanto io la posso ammazzare lo stesso mi sa mi sa tanto che questa è un'altra sconfitta perché quel cuzzolo del canto del cazzo matto mo mi spacca anche l'artefatto è un rompiballe perché se mette altri giù se metterebbe altri lupi mannari ecco tutte le volte cresce di di roba l'intensità ecco giustamente non mi arriva la carta che mi serve io metto giù questa giusto per pararmi il culo ma proprio giusto per pararmi il culo perché prima doveva utilizzare questa metti giusto un'altra creatura bravissimo bravo perfetto basta blocchiamo a sto stronzo tac anche il rosso verde non è mai rosso verde fa tanto danno subito perfetto grazie mille gioco che non mi dà la palude che potrei almeno riuscire a fare qualcosa capontana terminiamo turno questo gli si potenzia ancora al cuzzolo un'altra volta diciamo che c'è stata la prima mano fortunata giusto perché purtroppo quello l'anno gli venivano in mano le carte giuste giusto per quello o passa blocca una creatura usiamo questa anche se abbastanza inutile e niente c'è un'altra bella sconfitta se mi venisse una palude non ancora ancora no e o e di su di tutte le creature me ne frega un cacchio se what a con valore di mana pari o inferiore 2 e vabbè tanto non potevo lo stesso fare eh no bravo un cacchio non è servito a nulla quella carta lì e niente ragazzi è arrivata un'altra sconfitta purtroppo non si può sempre e soltanto vincere e ci rifaremo alla prossima partita e no credevo che gli ammazzavo tutto e invece no perché quello la ha fatto la carta imbloccabile siamo ad un punto vita a meno che non mi arrivi adesso una bella carta che gli ammazzo qualcuno no perché questo ha messo giù praticamente tutto perfetto e c'è la grande vittoria dell'avversario mazza che sfiga credevo di aver fatto un bel mazzettino proprio fatto come si deve e invece sti cacchi gli avversari hanno fatto roba partita